E' il suo regalo per Hitler, un pugno di super uomini con lui al comando. Il mio non è un dono, è una maledizione. Benvenuti. 3, 2, 1. E ora non è il posto più bello del mondo. E' il suo regalo. Questo figlio. E' il suo regalo. E' la nostra sola speranza. Tu sei speciale, ragazzi. Tu sei un dono.